Sono 110 neolaureati entro i 35 anni selezionati dalle stesse università a seguito di un'apposizione di un'opportunità, l'impegno di spesa nostro 3 milioni e mezzo, il contratto sarà per un anno una possibilità, una opportunità perché giovani laureati col massimo dei voti possano mettere a profitto il proprio titolo di studi in una esperienza di tiroginio che sarà certamente utile quando scaduto il contratto si incontreranno col mondo del lavoro e delle professioni. Al tempo stesso consentiamo alle strutture debilitate dell'amministrazione regionale di poter cogliere l'opportunità di un contributo di entusiasmo, di competenza. Naturalmente non dobbiamo e non possiamo e non vogliamo creare precariato, loro sanno che è un contratto a termine, ma è un modo per cominciare una nuova stagione nel progetto di vita che ognuno pensa di poter realizzare. 110 ragazzi che prenderanno servizio dal 16 marzo nell'amministrazione regionale, portando a quest'ultima il contributo delle loro competenze e della loro voglia di fare, ma anche traendo un'esperienza importante. Sì, sicuramente è una bella opportunità, siamo stati contenti di aver iniziato la formazione, siamo stati molto soddisfatti ai nostri docenti e speriamo che sia molto formativa per noi questa esperienza. Grande emozione, voglia di affrontare questa avventura e soprattutto di avere un bel ricordo. Sono abbastanza felice per questa opportunità.